Una situazione alquanto pericolosa è stata segnalata alla nostra redazione e riguarda Agropoli con precisione Trentova e i suoi sentieri. In particolare, in uno di questi, nei pressi dello Scoglio e dell'Ido Trentova, dopo aver percorso qualche metro, risultano mancanti le staccionate, ma soprattutto è presente un terreno disconnesso e in discesa molto pericoloso, che rende impossibile il proseguire, anche per la vasta presenza di Sterpaia. Sono state varie le segnalazioni riguardo persone che si imbattono in questo pericolo perché non tutti ritornano indietro una volta che ci si è resi conto dell'impossibilità di proseguire sul sentiero. C'è chi prosegue e rischia seriamente di cadere giù perché il percorso è davvero impervio. Nonostante la splendida zona, una delle maggiori meraviglie di Agropoli, spesso ci si imbatte in criticità del genere, che non mettono sicuramente in buona luce l'organizzazione della città per via anche degli investimenti fatti sui percorsi sentieristici di Trentova. Un semplice intervento di manutenzione basterebbe ad evitare spiacevoli situazioni ai cittadini e turisti che vogliono soffrire di un bene di questa città.